Ci ritroviamo nel piazzale dell'ANAS insieme a un folto gruppo di cittadini a seguito di una iniziativa promossa da me ma anche da altri, dall'ingegnere Paolo Laganà, l'ex sindaco di Motta, da Pino Falduto che è l'amministratore di Porto Polaro, ex amministratore di questa città, ma anche da tanti altri che sono qui presenti e altri li stiamo ancora aspettando per rimostrare tutto nel nostro sconcerto rispetto a una gestione del cantiere sulla tangenziale che sta provocando disagi in mani alla cittadinanza e non si vede una soluzione a dispetto dei tanti annucci che in questo senso invece lasciavano presagire un'imminente fine dei lavori. Intanto abbiamo nel nostro comunicato di questi giorni fatto notare che c'è una evidente carenza nella programmazione perché è stato assegnato un termine troppo lungo, c'è un'evidente cattiva gestione del cantiere perché è evidente a tutti coloro che transitano tutti i giorni, peraltro in fila e quindi a passo di lumaca che c'è un organico del cantiere sottodimensionato, non c'è il cantiere gestito su più turni, non ci sono i turni di notte, addirittura molto spesso di sabato e di domenica si nota che non c'è nessuna presenza in cantiere, per cui è una gestione del cantiere che è assolutamente insufficiente, non è stata improntata ai criteri che oggi sarebbero necessari per una viabilità che serve tutta la zona sud della città e che non ha percorsi alternativi, non c'è l'individuazione di un percorso alternativo, quindi quello che è certo è che è sotto gli occhi di tutti, che c'è diciamo una cattiva gestione, quello che invece non è accettabile è che i cittadini subiscano sulla loro pelle disagi così gravi dal punto di vista delle ore di lavoro perso, dei ragazzi che arrivano tardi a scuola, delle persone che si devono regare al lavoro, senza contare che ci sono anche rischi gravissimi se ci dovesse essere un'emergenza sanitaria, perché non è stato individuato, come dicevo, nessun tipo di percorso alternativo, le carreggiate sono chiuse in maniera permanente, quindi oggi noi come risultato di questo sit-in vogliamo chiedere, abbiamo qui pronta una lettera che firmeremo tutti i presenti, l'accesso agli atti e ci serviamo anche eventualmente di citare per danni il committente che è l'ANAS come risarcimento collettivo ai sensi della normativa vigente. La scadenza del loro danno come 29 gennaio è comprensiva anche dei giorni che posseranno fermi durante... Sì, anche questa è una cosa che dimostra che c'è una cattiva valutazione della realtà, perché di fatto fermano il cantiere, almeno sulla base di quello che si legge nelle dichiarazioni dal 22 dicembre al 6 gennaio, che sono i giorni quando invece essendoci le scuole chiuse magari sarebbe da fare il contrario probabilmente, quindi sì, sono compresi anche quei giorni perché è il termine contrattuale da quello che si legge nel sito dell'ANAS il 29 gennaio. Rispetto all'importo dei lavori è palese che è un termine molto lungo e qua si vede la cattiva programmazione del cantiere.